buongiorno a tutti oggi presentiamo finson progetto ristorante 5 il software di finson dedicato alla gestione di ristoranti pizzerie bar nella barra dei menu dai menu file abbiamo la voce per uscire dall'applicazione nel menu visualizza è possibile visualizzare gli impegni di giornata e le scadenze nel menu gestione archivi possiamo andare a eseguire backup ripristino degli archivi o impostare l'utilizzo di un archivio esterno all'applicazione dal menu punto di domanda apriamo la guida about da dove è possibile visualizzare il numero di versione dell'applicazione attualmente in uso aprire il manuale richiede l'assistenza visitare il sito finson scaricare gli aggiornamenti gratuiti del programma nelle tab del programma abbiamo la tab anagrafiche da cui è possibile andare impostare le anagrafiche clienti le anagrafiche fornitori le anagrafiche dei camerieri a cui è possibile associare un nome utente una password utile poi per l'utilizzo attraverso terminali mobili come tablet o smartphone le anagrafiche degli alimenti la gestione dei tavoli e la gestione dei piatti e delle bevande nella parte destra invece possiamo andare a impostare la gestione utenti il programma permette di impostare varie tipologie di utenti con vari privilegi di utilizzo dell'applicazione e le anagrafiche del nostro locale dal menu magazzino abbiamo la possibilità di andare impostare le operazioni di carico e scarico di magazzino visualizzare l'inventario eseguire la valorizzazione di magazzino visualizzare gli articoli sotto scorta e visualizzare gli alimenti in scadenza inoltre col pulsante magazzino abbiamo la possibilità di impostare vari tipi di magazzino il programma permette di gestire vari magazzini come possono essere ad esempio magazzino bevande o il magazzino per alimenti dal menu documenti è possibile andare a impostare le ricevute fiscali i preventivi gli ordini fornitore le fatture di vendita il programma permette di fare fattura elettronica sia per la b2b che per la pia il programma è completamente compatibile col servizio finson express il servizio di finson dedicato a firma invio ricezione conservazione delle fatture a norma di legge la fattura di elettronica in formato semplificato e le note di credito in formato semplificato inoltre col pulsante epilogo giornaliero potremo andare a visualizzare l'epilogo degli incassi giornalieri e andare a creare il file xml per l'invio di corrispettivi dal menu statistiche il programma ci permette di eseguire varie tipologie di statistiche come ad esempio le statistiche sul fatturato le statistiche sugli acquisti per fornitore e le statistiche sulle vendite per tipologie di piatti dal menu gestione sale invece possibile andare a eseguire tutta quella che è la gestione delle prenotazioni e dei servizi al tavolo il programma può essere collegato con terminali remoti come ad esempio tablet o smartphone da questo menu è possibile andare a servire un tavolo associare il cameriere che andrà a servire al tavolo e impostare quello che è lo stato attuale del nostro tavolo come l'attesa ordine attesa servizio richiesta conto o liberare il tavolo inoltre sempre da questa schermata sarà possibile andare a seguire la stampa della ricevuta o della fattura dal menu tabelle il programma ci permette di impostare varie tipologie di tabelle molto importante partire da questo menu perché sono i dati principali che verranno poi richiamati all'interno di tutte le singole registrazioni avremo la tabella delle aliquote iva delle causali di magazzino delle condizioni di pagamento degli articoli ricorrenti delle banche le voci di bilancio e le tipologie di piatti che vengono serviti all'interno del nostro locale dal menu scadenze agenda potremmo andare a impostare tutte quelle che sono le scadenze dei nostri clienti e fornitori inoltre sempre all'interno di questo menu abbiamo il pulsante email che ci permette di inviare email direttamente dall'applicazione ai nostri clienti e fornitori e il pulsante agenda appuntamenti da dove potremmo andare a inserire tutti quelli che sono i nostri appuntamenti nel menu contabilità abbiamo la voce per azioni cassa dove vengono registrate tutte quelle che sono le operazioni di entrata e uscita la visualizzazione del libro cassa e la stampa di bilancio dal menu fattura elettronica il programma ci permette di emettere come detto in precedenza fattura elettronica verso la b2b verso la pia e le note di credito grazie per averci seguito buona giornata da finson grazie per aver guardato il video